L'avvio di stagione era stato tutt'altro che positivo, 10 punti nelle prime 10 giornate, poi un cambio di marcia con una squadra rimodulata in corsa. Il Baiano di Sgambati ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per sedersi al tavolo delle grandi. 15 punti nelle successive 7 gare, due pareggi contro Virtus Avellina e Montella, le schiaccianti vittorie con Bisaccese e San Martino. Il pareggio sul difficile campo dell'Accadia ed altre due vittorie contro il Miscano e nel recupero con il Grotta. E' proprio il successo contro i ragazzi di Bruno, catapultato da Vanzo e compagni in piena zona playoff. Quinto posto in classifica, 25 punti, a due lunghezze dal serino di Gargiulo. Sesto migliore attacco del girone con 24 gol siglati, una media di 1,50. Troppe le reti subite, 22, solo 4 però nelle ultime 5 partite. A dimostrazione che qualcosa negli equilibri della squadra è cambiato. Migliore marcatore d'avanzo, intramontabile Toni, ex bomber di Taranto e Cavese che con 10 gol sta trascinando in granata. E questo fine settimana l'esame più importante e quello più difficile contro il serino di Gargiulo.